Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Oggi ho fatto un nuovo kitstone Che sono il primo, appunto, gli stickers Vabbè, comunque sono gli stickers Ormai ho compreso tanto stickers come tutti Questi stickers sono questi qua Sono davvero davvero belli, mi piacciono tantissimo Possono essere semplici cuoricini Però la cosa bella, la cosa interessante È che sono fatti così Sono fatti di stella La tela, è fatta di tela E niente, dietro così Ed è della ferma Colacca, Erma Asterisco Erma E Magic Erma Magix, non lo so Non lo so E quindi ora ne andiamo ad aprire Vediamo come sono Allora, io lo apro da qua Ecco qua Oddio, sono morbidissimi E sono fatti di tela Sono fatti di tela E niente, dietro sono colpi Sono abbastanza appiccicosi E si può dire appiccicosi E mi faccio la capo Allora, abbiamo Abbiamo questo qui verde A strisce orizzontali o verticali Poi quest'altro però Sempre la stessa cosa però Rosa Questo qua pua Bianchi E quello sfondo rosa Questo qua invece È soltanto C'è C'è un po' di differenza Tra questo e questo qua C'è un po' di differenza E faccio vedere La differenza Tu puoi ben notare Questo qua è più chiaro Invece questo qua è più scuro E poi Questo qui ha i quadrati più piccoli Invece questo è più più grandi E quindi si Poi Abbiamo questo qua Questo viola Che è bellissimo A pua Come questo qua rosa Poi Un'altra pua verde Mi piace tantissimo E infine Questo qua Sempre a pua Fucsia E sono carini Sono bellissimi Sono molto molto morbi Infatti A me Come potete vedere Io prendo soltanto Quelli Quelli morbidi Quelli Fretti Perché sono molto morbidi Allora Visto che ora Oggi è venerdì Come sapete Non lo so Va beh In elementari Venerdì Si prendono i compiti Lo zanno Cosa che le mediano Accanto Ehm Quindi Io Sapevo Che oggi Compravo Uno dei patachini E proprio Oggi Mi sono scordata Le metto Le rimetto dentro E domani E domani Scusate le voci E domani Certo Vabbè E lunedì Lo porto a scuola E le attacco Alla ricreazione Alla ricreazione Ok ragazzi Un grande bacione E alla prossima Ciao 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 Bene Scusate se non faccio video Perché prima Ho il problema Ho il problema Che non mi si carica Il video Perché ho troppi file Inutili Ho troppi cacchi Cioè Ho troppi cacchi inutili Ho troppi Ho una spazzatura enorme Nel telefono Quindi la memoria E secondo Non so che video fare Spero che questo video Si faccia Comunque Un altro bacione E alla prossima Ciao Ciao